a e per tutti i cazzi bentornati in questo nuovo video di minecraft siamo insieme a dandy search o meglio di ho la skin e il nome sbagliato skin di johnsona io c'ho la skin giusta appunto e basta ok siccome siamo premium siamo H beh andiamo a listare craccati non è vero mai nella vita perchè io sono premium però no anche io sono premium premium c'è non proprio fatto legalmente comunque andiamo quale partita allora numero 7 7 ok stiamo facendo delle bedwars quindi questa è la terza persona delle bedwars se no andate a vedere è il blu a blu ok ha scelto di blu ha scelto di blu aspetta che sta vloggando seriously? vero eh salve ciao ciao tizio ciao alex random ciao steve ciao tizio strano che skin ha questo? che strana skin però ok iniziamo la nostra buona fortuna allora chi chi fa la cosa? allora noi andiamo subito al centro ok? farro farro tutto mio ok allora io mi faccio già una spada ho a power ecco la quale ma io non parto a spa dopo parto a spa voglio andare al centro per andare per l'arco voglio direttamente subito immediatamente proprio ora l'arco 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 proprio ma anche a me mi servono i blocchi solo che sono fregati tutti assorta ma non mi venire in faccia guarda mi viene in faccia madonna ti spingo se si potesse si può spingere gli sponco il blocco sotto si può spingere la gente? no è vero perchè non siamo in 1.9 oh assorata dai andando io ho pure la spara un uomo poderosa anche se di non è tutto poderoso c'è c'è gente 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 è nostro c'è gente c'è gente altro c'è gente dier posso andare a fermi un arco mi sa eh resta un po' e prendimilo pure a me perchè a me sta laggando e non riesco a capire più dove sono ok lui l'arca quindi io ho capito tutto non potrai fare bene alla barbos ok ho tantissimo di oro ok ci potremmo fare un arco prendi le 16 prendi le 16 di oro stanno arrivando tizi arrivano tizi ci sono tizi ci sono dei tizi meglio che me ne vado è il cibo mi serve c'è qualche bistecca comunque si siamo su un server per quelli craccati anche per quelli premi perché se no non avrebbe senso che merda voleva subito lasciare male allora adesso ci facciamo un bel arco ok quale facciamo quello con impatti ok aspeh frecce tante tante frecce facciamone ben uno stack aspeh aspeh dove sei aspeh vieni un attimo sopra così non ci vedono che si perché avevo con allora c'è uno stack aspeh uno stack metà stack ah l'arco aspeh l'arco l'arco te l'arco prendi l'arco madonna oh ok potremmo già arcare si una volta ragazzi quando faceva facevo una bad worst con sempre con andritch ecco un altro giorno tipo lanciano forci a caso e prendeva anche gente quindi mi sa che prendi i blocchi prendi i blocchi c'è rimasto un po' di oro 4 allora fai la come si chiama la la blaze rod ah la blaze rod quanto costa la salvavita la salvavita quanto costa na na 5 valla a prendere quando c'è il nostro ormai sicuro no c'è un rosso c'è un rosso ci sono i rossi merda sto cadendo no oh merda oh merda sto per muri sto per muri è morto ma ci fa spawn kill ma ci fa spawn kill vabbè da KICKED FOR FLIDING ORRELATE ma che c'è ma mamma ma va fa ci faceva spawn kill non spawnavamo nemmeno capi mmm lo fa un culo allora entriamo nella 12 oppure 25 25 25 25 oh perfetto mulini che merda il giallo giallo si ok giallo eh fammi entrare nel giallo eh io sto in base adesso ok allora io vado a lasciare allora ok mancano 38 secondi e iniziamo vai subito alla al centro al centro a prendere oro io vado a rushare conservamene 5 conservamene 5 di oro 5 intenzione salva vita si che andiamo a rushare ok rushing beach ma se abbiamo io faccio un sacco di blocchi siamo tanti gialli siamo tanti siamo tutti gialli siamo il team banana siamo il team banana e vedi che i verdi sono lo stesso punto hashtag team banana ecco hashtag banana forever banana is life banana is love banana is life ok ok io sto qua a campionare ma mi fregano tutto merda oh maledetti steve fate i bravi schiavi fate i bravi schiavi fate i bravi schiavi levati va tu per lasciare un attimo ponte subito ma vaffanbilo madonna oh infame oh fame fa fare all'esperto fai fare il red di slime allo slime rancher professionista perchè voi non sapete controllare gli slime se sapete controllarli ci possono io voi andate io voi andate non potevi scrivere io bard e voi andate no io voi andate che significa che così io voi andate e non bardo non bardo oh si consumato un blocco senza che l'ho pensato che merda che merda che merda vabbè che è barda diablo barda diablo il bardo di diablo il migliore che c'è ah eccolo la lo steve tutti steve un alex un john cena e il prescelto degli slime rancher non c'è nulla in sta cassa ma potevi mettere qualcosa no? non potevi mettere qualcosa tu? diablo no eh? che trimbo che sta facendo diablo? nulla se ne gira così a caso no sta mettendo l'handson ah ok comunque ehm meglio se mi faccio una piccola armor il armor eccola qua si ha il team banana come sempre guardateci ehm 15 di ferro team banana bastoncino random e del cibo e fai cibo a morire i blocchi con uno di ferro potrei prendere un corno hai l'oro oh oh uno dei nostri ha lasciato male questo qua grande 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 senza niente tra l'altro a mani nude lol sottissimo allora blocchi eccoli qua blocchi per rushara eh c'era il salvavita non c'è ne manco foro vai al centro eh c'è però non è che c'ho tanta roba non c'è oh il team verde come cade il team verde come oh 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 un rosso oh un verde la guerra no no guarda questa giusta madonna bravo no c'è l'enderman di fuoco c'è un enderman di fuoco no schiavo dimmi sta dell'enderman non avvicinarti o lo dirò muori picchia bravo bravo picchiatelo 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 oddio no 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 tutta la squadra tutta la squadra tutta la squadra tutta la squadra oh fuck no madonna bastardo bastardo infame infami pilastro 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 merda pilastro ma merda cotto merda cotto un fucking shit io vado qua e io vado qua basta e io vado qua io vado qua madonna picchio questo madonna picchio sono morto che cosa brutta che merda che merda che merda lui è morto andri attenzione è morto eh molto molto attenzione molto molto oh oh che mi ha rubato il bronzo oh porca perchè mi ha dato perchè mi ha dato stone oddio sto mi stavo un attimo laggando ehm gli utilizzi oh my god oddio mi stavo glitchando male dai c'è un botto di blocchi allora c'ho 5 stack di eh di sandstone e 16 blocchi di oh oddio mi stavo buggando male dai diamine stavi laggando stavi laggando assai shit crap stavo laggando fatti cibo io ho 6 blocchi fatti cibo dai dammi hanno quittato i blu alleluia hanno quittato comunque allora cibo hai detto cibo a volontà si ok eccolo qua ne ho 18 vuoi la metà? te la metà io ce ne ho 10 ah nooo mi hai rubato il mondo non è vero attenzione i rossi i verdi no guarda i verdi guarda i verdi giuro guarda i verdi io mi sono preso un'arma wapawa hanno quittato i verdi hanno quittato grandi andiamo aspetta quanto costa il piccone in ferro? che magari poi lascio quattro di ferro beh se non poteva costare tre perché con tre di ferro fai il piccone in ferro no quattro aumentiamo il prezzo mercato scaduto cacacocco comunque 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 salve io vorrei il suo coso cacacocco ok eccolo qua picconazzo andiamo al centro andiamo andiamo c'è i blocchi no vieni qua ok al lato dell'isola ho capito asale un acquistato un acquistato un acquistato i verdi dobbiamo lasciare io direi andiamo da qua eh là ci sono i verdi allora io c'ho pure il piccone una spalla wapawa che toglie 7,75 di danno perché tiene affilatezza 3 e delle 8 bistecche e un po' di bronzo che non mi serve una cippa chi è che è caduto là? come un cretino andiamo a rushare no guarda perché se no stiamo facendo questo ponte questo è il ponte del rushing è allagato vabbè non ti preoccupare io c'ho il mega piccone 64 di bronzo vuole fare la piccola kamikaze ah si è allagato e ancora perchè io tengo premuto il tasto shift forza il tasto è destro del mouse e mi ripiazza automaticamente ah altro stack che differenza c'è qualcuno? no ok tanto è bello che pure io il blu il blu no non è un blu chi è? no non lo so sto facendo un ponte strano no è un blu è un verde un verde ho capito però c'è è qua è qua è qua io ho capito non possiamo fare il ponte se no ci può amazzare c'è quel bastone là del contraccolpo è assorata mo ci viene a lasciare vai a spaccarla ti lascio dei blocchi per salire ok? ce l'ho già tre ma non sono nulla grazie oddio alleluia non sono caduti cazzo impossibile cazzo 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 no guarda sopra guarda sopra guardate sopra sopra ma come fa? sopra piccone oh ah ok era uno dei nostri c'è un idiota qualcuno che tiene l'arco no eh siamo siamo fottuti raga abbiamo perso abbiamo ma dico il centro sarà vuoto dai ma come si fa? ma abbiamo perso noi tanto come noi i verdi attenzione quelli là che ci stanno attaccando tutta il... oh shit oh shit attenzione non c'è l'arco non c'è l'arco non c'è l'arco non c'è l'arco posso farlo? no mi stanno facendo mi stanno venendo no mi hanno ucciso ah shit ah shit vengono 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 non c'è l'armo non c'è l'armatura non c'è l'armatura dai lasciate un po' di ferro fuck fuck poi come? poi spiegate no come fai? stanno arrivando rossi stanno arrivando rossi merda cheat 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 aiuto mi sono difeso con le mani però anzi con il bronzo dov'è? però vanno ucciso ne vanno una spada super a p madonna l'ho presto l'ho presto dai 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 no non si poteva prendere perchè non li facevo danno? no no questo vaffanculo ti senti di merda sei morto? si e dove sei? eh ho venuto qua un altro un altro mio simile poi allora entriamo nella quindici quindici entriamo nella quindici entriamo c'era un mio simile ok quindici andamone la quindici mamma mamma ok allora blu blu perchè è blu? cioè non c'è nessuno è blu oddio ci mi entra non ti preoccupare che la vinciamo 3 conto 4 morta 2 buono 2 non sai quando è facile come partita dai tu idiota entra nel nostro team entra nel nostro team non entrare non entrare non lo fare entrare che merda che merda ci siamo in 4 basta c'è andri proprio è un pezzentino basta oddio perchè oddio un magliare geneticamente modificato meglio che mi allontano mi allontano da un magliare geneticamente modificato bruttissima che schifo no sta mappa da merda chi barba c'è ma ho fregato l'oro l'oro e il ferro ah un pagliaccio assassino c'è ma ti fregano tutto guarda 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 il pagliaccio assassino color america che merda oh il 2 di ferro guarda non vuole manco dare gli altri mi dai un po' di bronzo ah bravo come me lo dai me lo posso mangiare bronzo chi è questo idiota ah c'è lo super spadono ah questo qua c'ha tipo il simbolo del vabbè pure io c'ho il simbolo del fatti una spadona fatti una spadona cosa da dammi qua schiavo grazie è buono lo so vedi che tiene sharpness 1 lo so lo so affilatezza 1 over power non è vero mai nella vita sharpness oh affilatezza è la stessa cosa vabbè è perchè lui gioca in modo inglese perchè non tiene perchè non tiene traduzione quindi un nabbo nabbo no guarda che sta facendo questo qua sotto di noi sta facendo la mia strategia chi cosa quando dove perchè è caduto il cretino ma chi era? io vi faccio i blocchi ma chi era? Bartolion è il nostro è quello della nostra squadra ah anche pensavo a un nemico che già era venuto male a lasciarci oggi siamo 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 quasi al centro eh siamo quasi al centro eh io vengo uno stack di blocchi mi faccio un po' di blocchi e del cibo perfetto perfetto non c'ho vengo con te no i rossi 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 i rossi i rossi già si attaccano no impossibile già tutti qua no aspetta già tutti qua no eh no eh no eh allora non ditemi che che non usano le hack poi vè qua vè qua vè qua vè qua vè qua vè qua c'è ma mi frega i blocchi vè qua vieni maiale bravo maiale bravo muori salame salame vivente guardalo qua ma io non c'ho l'armor non c'ho l'armor help please si va buttati buttati vincenzo pro vaffa ma ma merda oh fuck com'è come ah che cazzo che cazzo no dimmi che mo ci sono quelli che sono come ha fatto mamma fa no 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 non è possibile non è possibile no non è possibile mi hanno beccato da 30.000 blocchi tanto è pesante non cambia ma vaffanculo va bravo no merda ma come fa il magliale ad avere i magliali ma ne ho ucciso uno ne ho ucciso uno i magliali non possono avere gli archi magliale ma donna che sono morto no no picchiatelo picchiatelo dove è la merda ah ok oh merda oh merda oh merda stai nell'acqua stai nell'acqua quando mi fa fare non puoi fare un cazzo ma gliale di merda ma vuoi fare invece no perché guarda dove sono quando vanno a giro le frecce cioè ti vanno alla ricerca già sono morto io prendi il bronzo e mettiti in acqua bronzo e ti metti in acqua io sono detto indietro al vetro sono fatto un cazzo che c'è un sacco di greccia e sono ucciso è stato ci sono un bambino io quattro cuori io due ma da merda sto soffocando ho uscito scelto 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 ho fatto un riparo almeno allo spawn guarda perché spawn killano si spawn killano ok oddio qualcuno c'ha minchia che bro ce l'ho fatto fare quattro stack di dico no ce n'è un altro e sono nascosto detto il vetro oh stanno stanno venendo bannati mi sa perché non come si fa a contattare un admin come si fa boh ma perché lo devo dire che a inizio a partire ti hanno già tutta la roba non è possibile c'è non è che hanno tutti gli archi l'arco più p del gioco lì già stanno dalla loro base bravo se riesci uccidili ti vedo ti vedo eh no aspetta come ha fatto a morire il nostro cioè ci stava fermo non è non hanno toccato nessuno non hanno ben nulla toccato eh cosa cazzo vuoi farmi no 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 non è possibile non è possibile porca bestia eh ho detto il vetro come fa a uccidermi è morto il rosso no cosa sei morto no sono stanno arrivando stanno arrivando stanno arrivando voi uccideteli c'è uno che fa spawn kill cazzo dai voi uccideteli ma come cazzo fai ad uccidermi è ma si ma se ma puzzate allora no è impossibile ero letteralmente alla loro base siamo due blocchi solo due c'è una ventina ah c'è due e una ventina cioè ok pochi pochi blocchi ah vieni tu con me a farti il piccone eh ok il piccone più scarso della storia dei picconi lo farò lo farò eh eh mi manca uno dammi uno di bronzo ma prenditi il ferro ce n'è tantissimo vabbè no me l'hanno bannato no come ti hanno bannato dal server si dal server per cosa boh dal server ma proprio dal server o dalla partita report file flying ma dal no mi hanno mi hanno dato tipo la mi hanno detto che usavo l'arco che non c'era nel coso e io non c'era neanche l'arco l'arco che non c'era nel coso nel gioco nella bad wars e che arco non c'è ma perché ne so io non c'era neanche un arco ma veramente ma io non c'è un cazzo ce l'ho solo due di ferro che perché mi hanno ammazzato ammazzato raga io direi di cambiare server e di andare sulle sky wars direttamente sky wars proprio entrare i hacker oh qua c'era tanto bronzo all'attacco aspetta prova a fare una proagine che ci riesco sono un mito io ero già sono un mito perché ero arrivato dietro alla loro base sì ma se riesco a spaccare il letto ma usi il mio ponte stai usando odio mi arcano mi arcano mi arcano mi arcano usa il mio ponte usa il mio ponte vai in alto con il mio ponte e c'è il rizzo no merda vabbè cambiamo server basta grazie grazie